Si tratta di una vampira, ed è molto, molto bella. Un essere esteriormente meraviglioso, ma in realtà animato dalle forze del male. La vampira vaga nei boschi e nei luoghi più isolati alla ricerca delle sue vittime. Di vittime che possono soddisfare la sua continua sete di sangue. Una sete senza fine. Una sete senza fine.